Grazie, senatore Tarquinio. Senatore Centinaio, prego. Grazie, Presidente. Il ministro, noi l'abbiamo ascoltata bene, ci siamo informati, abbiamo studiato prima di oggi. Ed è sotto gli occhi di tutti che noi abbiamo due servitori dello Stato, lei e il dottor Marroni, che dicono due cose diverse. Uno dice bianco e uno dice nero. Uno dei due mente. Uno dei due mente. Non ci può essere il grigio. Non esiste il grigio quando due persone dicono due cose diverse. E quindi dobbiamo solamente capire e cercare di decidere a chi credere. Credere a lei o credere a Marroni. Lei, ministro, accusa e punta il dito contro chi afferma il contrario rispetto a quello che ha detto lei. Ma chi sostiene il contrario, ministro, è proprio Marroni. La persona che avete nominato voi. Non l'abbiamo nominata noi. L'avete nominata voi. L'amico degli amici degli amici. E quindi la domanda che le poniamo, ministro, perché c'è stato il tempo, Marroni, l'ha querelato? Lei, ministro, e i suoi avvocati. Avete querelato Marroni? Lei, ministro, in qualità di organo politico, importante perché è inutile nascondersi dietro, ho solo un ministero, così e così. Ha chiesto le dimissioni di Marroni? Queste domande, a queste domande, noi volevamo una risposta. E quindi, ministro, il dito, che lei ha puntato verso i colleghi dei Cinque Stelle, e indirettamente anche verso di noi, perché comunque anche noi voteremo la mozione di sfiducia, non lo deve puntare verso di noi. Lo punti verso Nord, verso la sua regione, verso casa sua, verso i suoi amici, verso le persone che voi avete nominato. Le leggo qualcosa. Il ministro Lasci anche senza avviso di garanzia. È un problema politico e non giudiziario. È stata minata l'autorevolezza istituzionale. O il presidente del Consiglio dice io ci metto la faccia, si prende le responsabilità sulla vicenda, io se fossi lui non lo farei, oppure il PD deve votare. Se cambia il ministro, il governo è più forte e non è più debole. Matteo Renzi, Corriere della Sera, 20 novembre 2013, sul caso Cancellieri. Questa vicenda mi lascia un senso di tristezza addosso. Il problema non sono le dimissioni. Il problema è che è in gioco la fiducia verso le istituzioni. Io al posto mi sarei dimessa. Il punto grave della vicenda è che ancora una volta si è data l'immagine di un paese in cui ci sono le corsie preferenziali per gli amici degli amici. Gianmarco Centiani non parla di se stesso al femminile, ma è il ministro Maria Elena Boschi a Ballarò, 16 novembre 2013, sempre sul caso Cancellieri. Si è dimessa quando era successo al ministro Boschi? No. Ma, visto e considerato che aveva detto che avrebbe abbandonato la politica se avesse perso il referendum il 4 di dicembre, la parola dei suoi amici vale tanto in foglio buttato. Ci si dimette per questioni politiche ed etiche, non per gli avvisi di garanzia. Matteo Renzi, 22 marzo 2015, sul caso Lupi. E allora, ministro, noi ci troviamo, l'han detto anche esimi colleghi prima di me, Nunzia De Girolamo, la nostra collega Josefa Idem, Maurizio Lupi, ministro Guidi, ministro Cancellieri. Per queste persone, per questi rappresentanti dello Stato, era in gioco il futuro e la credibilità delle istituzioni. Poi sono arrivati il ministro Boschi e il ministro Lotti. Per questi due ministri vale la tutela del giglio magico. Rappresentano le istituzioni, ma sono intoccabili. Se sei amico di Renzi, sei tutelato. Se sei un ministro peones, mi spiace per gli altri, sei fregato, devi andare a casa. senatrice Repetti, c'è una bella differenza tra la mozione di sfiducia indegna che era stata fatta all'ex ministro Bondi e questa. Vuole paragonare, senatrice Repetti, il crollo di un muro a Pompei con quello che stiamo vedendo. Lo sa, cara collega, che a Pompei i crolli continuano ancora e il ministro Franceschini è ancora lì? La colpa di Bondi, ahimè per lei, è quello che era in viso alla snob intelligenza di sinistra che detiene il monopolio della cultura in Italia. Voti quello che vuole. La famiglia, il giglio magico, gli affari, le fondazioni, le banche di famiglia, una zona grigia, ministro, dove il Gianni Letta di Renzi sembra sguazzarci beato e felice fino a oggi. Un mondo suddiviso tra politica e affari, dove l'unico obiettivo è sistemare gli amici in modo da occupare più posti possibili. A proposito, colleghi, apriamo bene occhi e orecchie. Tra pochi giorni inizierà il mercato delle nomine nelle aziende di Stato. Bisogna accontentare gli amici degli amici degli amici, quelli che hanno pagato, pagato. Nel frattempo, ministro fuori da qui, magari lei non lo sa, ci sono 4 milioni e 200 mila italiani che vivono sotto la soglia di povertà e che non sono amici degli amici degli amici e che purtroppo non beneficeranno dei vostri servigi. Lei deve dare le dimissioni, anche per il fatto che non sta facendo nulla per lo sport. Nulla. Questo è un altro motivo per cui noi chiediamo le sue dimissioni. dimissioni. Zero. Zero. Non si sa nulla di quello che sta facendo per lo sport in Italia. Una delega apparentemente inutile, come dice lei, che avete appaltato al signor Malagò, vero ministro dello sport. L'unico momento in cui abbiamo sentito parlare di lei è stato per la Ryder Cup, 97 milioni di euro, ve lo ricordate tutti, c'è stato un bel dibattito, è stato l'unico momento in cui questo governo si è ricordato che in Italia esiste anche lo sport. No, mi ricordo anche quando Renzi andava a stringere la mano agli atleti che poi, immancabilmente, perdevano le medaglie, vista la sfiga che portava. Ma chi c'è dietro il comitato organizzatore della Ryder Cup? Figlio di Gianni Letta, moglie di Frattini, Renziano Barilla, l'ex presidente della Rai Gubitosi, presidente del CONI Malagò, la CONI Servizi, vera banca del CONI. La mia impressione, e qui mi prendo la responsabilità, è che avete infettato anche lo sport. Noi votiamo la sfiducia perché le deve arrivare un messaggio. Non ci fidiamo di lei e del suo modo di lavorare. Però, cari colleghi, non voglio insegnare niente a nessuno. Questa è anche qua opinione personale. Noi in questo momento, secondo noi, presentare una mozione di sfiducia è un errore. È un errore perché chi la vota sono sempre i soliti. È un errore perché a questo punto, da domani, da domani, i giornali, le televisioni, diranno, ha dato il via libera al fatto che il ministro è totalmente innocente, che va tutto bene ed è sdoganato. Noi, secondo noi, ormai, le emozioni di sfiducia per come sta lavorando il Parlamento della Cadrega, secondo noi, le emozioni di sfiducia non servono più a niente, anche se la votiamo. La votiamo perché crediamo in quello che è finito adesso. E quindi, ministro, termino meno dei dieci minuti che ho a disposizione. Uno dice bianco e l'altro dice nero. A questo punto chiediamo al presidente del Senato di mettere due corridoi. Un corridoio per la sfiducia al ministro e un corridoio per la sfiducia a Marroni. Ci dica lei, ministro, da che parte dobbiamo passare.